Sono un po' sorpresa che da lì è iniziato il tuo momento positivo, la gara dell'andata a Cittadella. Sì, è stato il mio esordio stagionale, diciamo. Quindi a te quest'anno Cittadella ti ha portato bene? Sì, con il Cittadella sono sempre gari un po' particolari. L'anno scorso mi avrei fatto la mia più brutta proiezione da quando gioco con il Cittadella. E poi è costata la panchina al Mistra, calore, quindi nulla. Poi essendo un derby uno ci tiene sempre a poter far bene, a poter dimostrare che può far parte di un gruppo, di questo gruppo del Pato.